Buongiorno a tutti il capitano Lico Menor, con il numero 5, Gatti Neu, Varevino d'occhio, Matteo Di Vizzi, con il numero 13, con il numero 18, con il numero 8, Virginia, con il numero 23, con il numero 28, H4, con il numero 44, Dave Brown e con il numero 6, Jaylen Enz. Grazie.